La Peronospora sta devastando i vigneti con danni stimati a 200 milioni di euro e la minaccia di chiusura per molte aziende entro settembre. Questo in sintesi il grido d'allarme dei viticoltori abruzzesi. I consiglieri regionali Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari di Abruzzo Insieme lanciano un appello urgente alla Regione e al Governo per un intervento immediato e concreto. Serve fare presto, è il messaggio unanime dei sindaci e delle associazioni agricole. Richiedono un minimo di 80 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza contro i 10 milioni stanziati finora dalla Regione Abruzzo. Ma la Peronospora non è l'unica calamità. Il confronto con il granchio blu che ha causato danni per 130 milioni di euro in Veneto, ottenendo 30 milioni di risarcimento, evidenzia una disparità di trattamento inaccettabile. Per questo si chiede il riconoscimento dello stato di calamità e un intervento strutturale da parte del Governo nazionale. Secondo i viticoltori abruzzesi, le risorse non bastano ed è necessario un cambio di rotta. Le critiche all'utilizzo di 17 milioni di euro per associazioni culturali e società sportive evidenziano la necessità di destinare prioritariamente questi fondi al settore agricolo in crisi per non permettere alla Peronospora di distruggere il patrimonio vitivinicolo abruzzese. I viticoltori abruzzesi chiedono un'azione immediata e decisa da parte di tutte le istituzioni per salvare le aziende e il futuro di un settore economico strategico per la Regione Abruzzo.